Un troll, no, non uccidermi, ti prego non uccidermi, no. Sono amico di Lord, non ti farò del male, accalmati, è tutto a posto, deve far molto male, eh. Ora ti curo io, fidati, sono uno sha... 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 sa... mano? Eh? Eh, ma... si, ora ti rungo una mano. Grazie per la visione! Grazie.